Le persone sorde hanno diritto a una piena inclusività in tutta la nostra offerta. Rai è l'unico operatore che rende fruibile i propri 25 canali tv e radio anche per persone con disabilità, soprattutto sordi e ciechi. I sordi vogliono avere anche un'informazione consapevole sulla pubblicità, questo è stato il primo esperimento in assoluto in Italia, ha funzionato molto bene, sicuramente è una strada da percorrere. Nel tavolo di confronto che abbiamo aperto a Mise per Rai e le associazioni, questa è una delle richieste che ci è stata fatta e sicuramente sarà nostra premura, nostra attenzione a rispondere positivamente.